Vi ritornate ragazzi sul canale di Galloz, nuovo episodio della nostra partita in Europa Universalis 4 col portopollo Non manca tanto eh, allora mancano le zone rosse da conquistare, le ho cliccate tutte una per una E poi è fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta, 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 fatta Allora 109, ovviamente il dio del gioco vuole che moriamo, quindi maggio 83 Siamo messi così, ora non annettiamo nessuno, sintanto che non se ne va via il modificatore malandrino Diplomatic annexation cost, vedete che c'è, slow negotiation più 10% Quindi dobbiamo aspettare che vada via quello, qua non lo troverò mai Questa schermata è importantissima, non c'è Poi per quanto riguarda la cosa, questa cosa orrenda, la rivoluzione Mi pare di aver capito che se io ho più del 50% e finalmente abbiamo più del 50% di cose Potrebbe, se ho qui Questo Quindi vorrò meno di 2 di stabilità Giusto 8 province controllate dai ribelli Comunque se facciamo partire questo disastro e poi decidiamo di uccidere i ribelli e non di uccidere il re Allora dovrebbe scomparire sta cosa Onestamente non so neanche se voglio impegnarmi a fare questa cosa qua Perché tanto ho talmente tante truppe che i ribelli non fanno il tempo a respirare e muoiono Allora ci sono un paio di questioni da sistemare diciamo per non arrivare ad avere una tregua che dura 15 anni in più delle altre E sono una transoxiana che è alleata con Vajanigar Non voglio fare una guerra 3 perché vuol dire fare due passi separate Perché sono tre stati grandi Poi c'è una tregua lunga col Giappone E questa diciamo è la tregua più lunga che abbiamo Se guardiamo qua nelle tregua c'è Giappone nel 97 Ajam nel 95 Chu nel 92 Chu nel 92 è ancora accettabile Possiamo cercare di accorciare Japan Quindi nel Giappone E Ajam invece monoprovincia Non lo so Spero sia lei con qualcuno Perché se no niente Faremo breaking truth Se Faremo breaking truth Se arriviamo Insomma vediamo cosa fare Quindi direi che possiamo attaccare Attaccare qualcosa per accorciare la tregua del Giappone Poi pensavo che fa niente se non nasce l'Armenia Attacchiamo questi con la transoxiana non cobelligerante E la transoxiana facciamo una pace da 10% In cui rompiamo la sua alleanza con Vajanigar Così si ritrovano tutte e tre senza alleanze La prossima guerra la facciamo con Vajanigar Nell'88 In questa qua sostanzialmente nell'88 pure lei Ma teoricamente non lo dà alleati O comunque se si allea magari si allea con V O gente che non dovrebbe esistere Possiamo attaccare il Bengala nell'83 Lo facciamo appena finisce di perdere questa guerra Ed è nello stesso momento in cui probabilmente mandiamo quel paese I nostri vassalli I nostri tributari V anche lui è la tregua abbastanza lunghetta E garantita dal Giappone Potremmo attaccare V1 all'85 E quindi portarci dentro il Giappone E accorciare la sua tregua In questo modo Che non è una cattivissima idea Però ho alleato anche con Corea La Nightmare Il Grip Door Qua sono tutti alleati Quello che mi permette di attaccare il Giappone Con meno Rottura di scatole Dovrebbe essere proprio questo Così siamo dentro solo con gli Aix Se no a questo ci entra anche la Corea La Corea con la quale abbiamo una tregua fino all'84 Allora credo che farò così Attacchiamo la Corea nell'84 Possiamo eliminare in questo modo V Anche in un Daco belligerante secondo me E' il 59 ancora abbastanza grosso Allora secondo me qua attacchiamo la Corea nell'84 Vediamo Adesso togliamo la cosa Facciamo finire i core Dobbiamo conquistare le Hawaii Poi possiamo fare una guerra qua nel frattempo Anzi questa quella potrei anche iniziare subito Ho spostato le navi qui nell'Hawaii Ma devo fare i core Quindi Ricambio di programma Salite sulla barchetta Tanto non c'è nessuna fretta Venite qua Attacchiamo questi Visto che ci sono degli assedi lunghi da fare Qui aspettiamo l'84 Che attacchiamo la Corea Che comunque è uno dei più grossi Anzi il grid power più grande dopo di noi Il secondo grid power E poi il prossimo sarà Bengala Qua in Africa c'è sempre da aspettare Aspettiamo Allora facciamo anche un Uno spy network su Antemoro Poi Secondo me da questa parte Possiamo Non dovrebbero esserci zone Con un milione Cioè questa roba qua Lo diamo tutti i vassalli Non so cosa conquisto io Vaianegar è qualcosa di grosso Ma qualcosa di grosso Sì dai 28 Allora Bene Che bello togliere la pausa Allora Palpa A me ma sono tutti Hindu Ma perché Saranno le states Cioè Ho pensato di averti convertito Ma non l'ho fatto Quindi palpa Lasa Questi invece sono Sono loro Allora Cosa sta succedendo All'Ina di Armenia Cattolic Zealot Grande Però sono Le states Anche qua Ah A posto Stai andandola da solo Perfettini Mister Perfettini Grip project No Ehi Perdi uno di stabilità Ma che bello Eh oddio Potrebbe anche essere Un modo per Fare il disastro Di cui Sopra Sapete che non vedo l'ora Di finire la partita Per spostare il trade Come vogliamo Sono abbastanza curioso Di vedere cosa succede A Cracovia L'unico problema Di questo approccio È che la golden age Ci finisce nel 95 E quindi Perderiamo anche Il good produce Quindi diciamo Non avremo Il massimo Di soldi Purtroppo Quanto mi da Di good produce 10% Non mi ricordo Devo stare zoomato Perché sennò Poi Tra l'altro Il gioco È davvero ottimizzato male Perché Ho un computer Che di sicuro Può reggerlo E ora va A 40 fps Quindi non so Quale sia il motivo Probabilmente anche La mod grafica Che ho messo Ma non capisco Come mai Una mod grafica Vada a interagire Sulla cpu Vediamo dove si vedono Le truppe Grisland Allora Good produce Più 255% Golden era Più 10% Sì Vabbè Non è È Ma non è È lui Non è lui Rivolte Allora Tuve qui Tuve qui Non ho nessuno in Francia Teve lì Poi teve qui Ah ci sei tu Vedi Tu resta qua Poi Francia E comunque Portogallo Diciamo Le cose come stanno So mi vuole sposare Accettiamo Convenzioni 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 Allora qua possiamo fare Solo questo A 20 Ok Ok E ne ho quasi voglia di perdere due di stabilità Vedere cosa succede Tanto mi costa 40 punti Papali Abbasdanza poco Abbasdanza poco Se voi capite Quanto è potente il cattolicismo Se con 40 punti Posso Aumentare la stabilità E 40 punti Sono due province grosse Convertite E con tutti I monumenti Nooo Ah no era l'evento Pensavo fosse morto qualcuno Allora Qua com'è Eh no Devo avere meno di Allora Progress Is Più 5 Sì siamo almeno al 50% Prestigio basso Ma devo avere anche i debiti No questo per aumentare la velocità I ribelli contano la capitale Banca rotta Direi di no Essere una powerful nation Di lì Beh l'assolutismo è abbastanza altino Però L'inflazione Come Adesso dice Stability less than zero Ma sono fuori di testa Ah no Vabbè Almeno al 50% Boh Teoricamente Non lo so Non lo so Tengo la stabilità Qui Vediamo cosa succede Allora Allora Tu sei alleato di qui due Tu Sei il capo Di questa banda Di matti E c'è questo Che è alleato Di quello lì Se attacco questo Posso attaccare tutti Perfetto Ok Il capo di tutti Dizzi Dizzi Non so Perfetto Ho appena ripreso A registrare Quindi ho le Movenze sbagliate Questo e questo Questo E tu Questo e questo Voi vi unite Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Perfetto Appena arrivo 80 Proviamo a fare La roba del Disastro E comunque Ne hanno Di truppe Ci diamo Bungo Al portopollo No 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 Perdiamo il claim Dieci di papa L'influence Wow Beh il prestigio Però Beh no Stiamo Pesto Influenza Da viet Questione di Right Influential Allora Allora Siamo Con la possibilità Di aumentare Di dura stabilità Quindi Io provo a fare Sta cosa Perché non parte Vediamo se Parle Al prossimo Mese Prima di C'è Stability Meno Di Due C'è Una Bugia Vivente A parte che Non si vede Neanche Tutto Il testo Cosa Che mi Manca Andiamo Al cambio Mese Oh è partito Perfetto Urbanizzazione Spendi 78000 Ducati Per avere Un po' L'idea Mi sembra La cosa Buona Giusta Allora Un partito Disastro Vediamo Se Bisogna Fare Così Perché Sennò Ora Di quanto Aumenta Al mese Clean L'inquisitore Lascia La corte Fino All'833 Apri Il football Ma C'è Il calcio No L'inquisitore Lascia La corte Se non Sa Cos'è Cos'è Leao Leao Meravigliao Avrei dovuto Prenderne uno Per passare Almeno un mese Con delle cose Fai l'aiutare Che mi sembrano In difficoltà Ci convertiamo Così A No Dai Cambio mese Come è finito Royal marriage Cioè Ti sposi Mi mandi a quel paese Oh Non c'è Quello che voglio Prendiamo questo Ma Mandiamo via Tutti quanti Niente stellina Su L'inquisitore Idea No L'idea No Londra Lisbona Allora Teve qui Fatto Questa è la solita Rivolta Ubermega Tu vai qua E tu vai sulla capitale Questi qua purtroppo Non li posso lasciare vincere Derby Chester Quindi qua Non ce la farei mai Sono troppi Devo dare un generale Con i controcazzi Vai con questo Il più forte che abbiamo È il nostro Napoleone Yee Ok Allora Uno Vai qui Andiamo a bloccare Quest'altro Posto qua Slowly but surely Li tiriamo giù tutti Allora Questo e questo Posto Poi Te sei qui E te sei qui Benissimo Qua come va? Dai va abbastanza veloce Siamo già al 20% Ottimo Senza debiti O cose Perché aveva L'assolutismo A millemila Speriamo Che Quello che ho letto Sia la cosa giusta Perché sennò Potrebbe essere letale Facciamo che vai Prima lì Ti fermi qua Per passare un mese Vai fuori quelli Vai su Londra Che tanto C'ha il forte Ubermega Poi andiamo nel Madagagare Madagagare Aspetto Yes Burwar Ciccolotto 12 Quanto serve Per fare il claim? 14 Mi pare Perché non posso fare il claim? Perché non ci confino C'è un più No Ok Non so se era la zona Con più dev No Però va bene Cambio mese Rivolte No Dai Sono deluso Allora vai qui E poi vai qua E poi dopo torni lì A fare il sage Siamo al massimo Di punti Posso prendere Un migliore di generali Allora faccio Allora andiamo qua Sfonda Sfonda tutto Intanto Ne abbiamo spesi Un pochettino Prendi un po' di general Allora Allora Minken 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 fatto A proposito Vuoi vedere Al mese Da 20 Da 20 è salito A 25 5 al mese È buono Cioè Se lo scopo è far arrivare il disastro Se no sarebbe terrificante Allora vai lì Poi vai uccidere quelli E poi torni qua Ha un sacco da fare questo esercito Poverino Ce lo farà Spero Lo speriamo tutti Allora Non so se deve uscire il Deve uscire qualche evento Quando c'è la rivoluzione Che altro magari mi state anche aiutando nei commenti Ma la serie ovviamente l'ho registrata inizio agosto Voi dovreste Siamo già a settembre credo Se non ho sbagliato i I conti Poi questa è una delle ultime serie che pubblico Una volta al giorno Le altre saranno Meno di una volta al giorno Quindi una volta In meno giorni Ok non siamo più verestesi Che bello Posso cliccare lì Cioè siamo verestesi Ma non sopra Siamo verestesi di sotto Disse lei Poi Questo Chi è? Tu sei sopra Ma perché ho queste truppine schifose Balorde Allora guardate lì Voi Fate un giro particolare E poi venite qua Tranne voi Che sennò morite Se fate questa cosa E poi venite qui Ok Spero di averle selezionate tutte Sicuramente non l'ho fatto Esatto Mets Chi è questo? Offerta di pace da Ah è vero che sono in questa guerra Sì ma qual è il problema Ma hai 27.000 uomini Cosa fai? Dopo attacchiamo anche quello Tu conquista lì Ah tu sei in due guerre Bravo impeldown Però se non riesci a vincere contro quelli Cioè ti diseredo Disastro ti devi dare una mossa Perché sennò arrivo al cap qui E non vuoi buttare via punti Cioè guadagno stabilità più rapidamente Di quanto il disastro riesca a raccorrermi Uh nasce un arrest Bene La moglie del popolo Tanto Joao è un tipo imbarazzante Quindi sua moglie può fare quello che vuole Questo esercito le ha viste di brutte 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 Probabilmente sta combattendo con i cannoni davanti Quanta gente c'ha Una persona 2000 fanti Sì E ne abbiamo persi pochissimi Incredibile sta cosa Secondo me è un exploit alla fine Alla fine Allora Te vai qui Te vai qua Scusate ragazzi L'allergia estiva Sono allergico al sole Come ogni essere umano Il sole è un nemico Non voglio alzare la stabilità Giusto? Come si Come dice Autostop Stability at the last 3 Quindi se la posso portare a 2 Vabbè Spendiamo qua Ragazzi Quello lì in Inghilterra da solo Ha fatto davvero fatica Vedi questi? Comunque non li becco tutti Qua neanche è servito Allora Voi pistolini Che state girando in giro Come dei Caimani In calore Venite tutti quanti qui Quelli lì sono le truppe Di qualche vassallo Triplo Kaioken Grazie Ok Lì siamo davvero All'immels Giuliano Guarda la guascogna Brava guascogna Peccato che non serva a niente Se non che inizia a ucciderne un pochino Uiii Bene Ciao Fuggi? Non fuggi Devo andare qui Qua sono tutte capitali Porca miseria Devo andare qui Di 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 per Giordì Di di choix Di essere Di ali Giuliano Di Giord payment Elle Di Vi Le Beh Questo qua è un generale che Sfonda proprio i crani Vediamo qua comunque dovrebbero avere un po' di truppe Finito la tregua col bengalino Devastation in Manila Mi spiace Vabbè andiamo in seguimento di questo tizio Tu vai sulla capitale Tirigliela giù Un'altra devastazione Dai Kongo devi scomparire che non voglio fare dev Mi sembra che l'antipo non fosse chiara Mi ha fatto il corner main Io non ci voglio credere che questi non ce la fanno Già sto facendo una guerra per te Siamo al massimo Porca miseria Allora qua abbiamo già controllato sta cosa Almeno penso di averlo fatto No Stabiliamo l'ordine qui Stabiliamo l'ordine qua Stabiliamo l'ordine qui Qui l'ordine c'è 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 Qui c'è Qui c'è Qui c'è Qui c'è Svizzera 1 Svizzera 2 c'è Carniola c'è Qui c'è Venezia non c'è Che poi è Genova Lo mettiamo anche qua Basta 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 Poi lì siamo al massimo Potremo sposarci con Zou Di nuovo Così ho speso i punti in maniera creativa Poi Antemoro posso farti il claim solo qui Quindi Rugar Lo riusciamo a prendere Fischia con tutta la manovra che abbiamo Per il fatto che Sia riuscito a scappare Cioè l'abbiamo sciolto Uff non c'è più Allora Nuove cardinali Una rivolta a Kabul E questo che si diffonde Tu vai qui Converti Converti Qua siamo al 70% Dai vediamo di fare sta rivolta entro oggi Lube è caduto Aver la minimappa che non funziona Comunque è davvero una rottura di scatole Dai ce la farai a vincere Il 7% Sì Finito la trega col pap Finito la trega con la corea Al prossimo episodio Attacchiamo tutti Todos Allora tu Corinto Corinto sapevo dov'era Perché ho fatto le scuole Grandi scuole No Oh che bello Facciamogli fuori Ste truppe Poi andiamo a aiutare loro Però Temo che con L'assedio fatto da loro Io non possa Sfondare le pareti Non ne sono tanto sicuro Ma Potrebbe anche essere Verde Infatto Zagreb Ok converti Questa gente Poi cosa devo fare Guardare questo 85 No voglio finire La congolona qua Congolona No tu vai qui Tu vai qui Allora Uno due tre Ok accetta Dunque qui Due per cento Quindi Congo Addio Adesso Facciamo fuori questi Andate qua Poi Unitevi qui Abbiamo pure la Sant'Agostino La Abramo Che è quella del Papa Mi piacciono un sacco I nomi Li hanno scelti Li hanno scelti bene Poi Facciamo Il Giappone Qua sta Subendo L'ira Degli Aksi Qua dovremmo Aver fatto cadere Tutto Ora Questo qua Ha solo due Di siege Dammi questo E vai là È caduto Senza il mio intervento Come ha fatto Ah hanno fatto Un conditional Beh Anche qua Possiamo dire Che è stato bello Oceania Allora Ovviamente Nulla è mio Adesso tocchiamo anche questo Così Questa parte Rimane fatta Conversioni 90 Ancora due mesi Ragazzi Un mese Poi ci sarà La rivoluzione E la testa Di Joao Non può cadere Allora Tu Prendi E rispostati Sul Midway Dai qua Non voglio neanche pensare Che tu non riesca a vincere Su 99% Vittoria Perfetto Adesso quasi quasi Ti faccio attaccare pure quello Appena Hai fatto fuori I ribelli Qua noi ci siamo Perfettini Mister Perfettini Skypiea Rittergarden Stiamo dalla parte di Skypiea Perché è molto più grosso È una questione Di Di Così Così Come vanno i corpi Liang Top Te Quasi Bing Niente male Neanche te So come vanno i corpi Ok No La rivolta La rivolta Quindi Allora Adesso cosa devo fare Il disastro è attivo da 20 anni La stability è almeno 3 Ah uno di questi deve essere vero La stabilità è almeno 3 Il disastro è attivo O il disastro c'è da 20 anni E ci sono meno armate che quello E così finiamo la rivoluzione Penso Penso proprio che lo farò Allora Stability 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 E siamo arrivati a 1 Ok Adesso convertiamo Per riportarlo su Portugal Will become a revolutionary republic Reactionar will seek to receive Eh? No Dobbiamo crashare Joao non può morire Allora Guardate C'è Daily che sta dalla nostra parte Dove sono i ribelli? Venezia E qua Ok Le conversioni ora sono Una parte molto importante Perché mi servono a portare La stabilità in alto Una provincia occupata dai ribelli? No Forse sì Vabbè ci siamo quasi Secondo me ora ho provincio Con tipo un rest 20.000 Una cosa del genere 33 Come se fosse tanto Mi segui quei cani Dove stanno andando Guarda che fuggono Fuggono perché vogliono la rivolta Dove vanno? Ah si sono fermati Questa ancora che spreda le cose Maledetto Dai Nell'episodio di oggi Siamo 37 Minuti Voglio vedere come vanno le conversioni E poi Decidiamo da farsi Nel frattempo Facciamo una guerra Contro questi Quando ci arriviamo Perché questi valgono più del Più del World's War Anche se Bengala Sei stato pacificato? Uh c'è Asam Prome Garantito dal Bengala Garantito dal Bengala Ma sai cosa non Non può succedere? Ah no quello lì è V Pensavo se mi passava Che se io attacco te Tu non puoi difendere Quelli che tu stai garantendo E questa è la legge Go Aspetta abbiamo già sfondato una volta Lo rifaremo Uh c'è pure questo Alleato di Lana Garantito dal Lana Manipur Potrebbe essere il momento Di abbandonarli eh Sai una cosa? Posso fare i claim su di te? Quanto pare sì Perché hai un sacco di dev Quindi vediamo di provarci Per lo meno Istria Hardbill Hardbill so dov'è C'è una rivolta ogni quarto d'ora Da Hardbill Questo è Hardbill Non Hardbill Hardbill è qui Questo è Hardbill C'è una guerra su Sulle D Ok provincia occupata dei ribelli Non ce ne dovrebbero essere Bam e Jax Ah vanno con forte però Ma questi cosa fanno? Ma perché vanno qua? C'è Autonomous Siege Sti cazzi C'è La guerra col Congo È finita Adesso se dichiaro guerra Non lo so Alla Francia Tutti gli eserciti della Cina Vanno in Europa Ah VVV Ok e con questo Andiamo a stability 2 Non abbiamo armato Di ribelli in giro Appena riprendiamo Bam Dovremmo essere pure a posto Pugliamo una chiesa a capo di Bobo Va bene Ben acceso Costruisci questi che servono sempre Ok qua quanto siamo Benissimo a posto Ok Pugliamo un po' di giro Pugliamo un po' di giro generale generale unculandia basta solo 15 in generale è un problema è nata l'Armenia vieni qua allora Armagnac porca che generale 5,6,5,6,5,6,5,6,7,8 e potrei cambiare forma di governo per avere ancora più shock però Joao è un block fighter perché vi ricordo sta cosa? è cambiato, è diventato benevolente era un block fighter una volta National Arrest P1 fino alla fine dei tempi? ah no, fino alla fine della rivoluzione ma guarda fino alla fine della rivoluzione va benissimo tanto non cambia niente abbiamo perso il leader è caduto questo quello qua non ho capito dove l'ha rivolto? se ne sono andati perché c'era troppo poca gente allora zone occupate dai ribelli queste qua di Novgorov che c'è una stacca tanto finché la stabilità non è a 1 non ci siamo allora tu vai qui e poi ce n'è uno che mi è sfuggito e vai qua c'è la stabilità a 3 non ho 1 ancora un paio di conversione ci siamo che palle quando schiacci e non succede un cazzo dai vai a fa culo ok perché sono finito in Europa? volevo fare la pace con prome che palle gioco che ti sposta la telecamera dai allora qua super piece dammi tutto vai a fa culo bene ma scusate se mi sono inalberato ma quante volte devo selezionarlo un cavolo una cavolo di truppa ah bergamo questo è fatto poi tu vai qui tu vai qui tu vai qui tu vai qui dovrebbero essere tutte i ribelli hanno lasciato il posto perché non se la sentivano dovrebbero essere questi allora tu vai qui questi sono quelli che sono andati via adana e ankara allora vai insegui questi dove cavolo vanno questi di solito vanno su sinope vai lì vediamo cosa succede e questi su berlino vai lì in mezzo che pace vuoi fare cioè non è che hai molte possibilità stability 3 e questa l'abbiamo sistemata deve via te converti grazie quindi primo punto fatto ora devo uccidere tutti i ribelli e fare in modo che nulla sia occupato dei ribelli stacca di ribelli vivi questo no ce ne sono un po' uh questo qua ce lo siamo dimenticati dai cerchiamo di finire la rivolta oggi non ne posso davvero più ah sono andati lì spero che gli ottoman separatist non vengano considerati miei però se no devo dichiarare guerra per finire la rivolta cioè sarebbe proprio il meme totale della partita davvero spero che questi non vengano considerati miei miei ribelli c'è scritto portugal fammi passare o mi fai entrare nei tuoi territori e ti dichiaro guerra non hai molta scelta eh l'assedio di bam è finito quello di assume è finito assume ah sta roba andiamo direttamente a daily tanto daily è piccolino giusto? vai lì ok questi andiamo fino a qua converti questo ho davvero il dubbio su questi qui oh le avete le truppe eh ok fateli fuori bene la democrazia dell'impero national arrest fino alla fine della rivolta sì ok ci sono ancora quelli ci siamo quindi questo qua neanche me lo considera dovrebbe finire la rivolta eh a fine cambio mese inizio la rivolta sì sì 50 minuti di episodio 50 punti power ok ce li possiamo prendere poi la rivoluzione il sentimento is a world from all provinces vai affanculo non c'è più sì ti ho eliminato dalla mappa quindi bisogna fare così ok fine della rivoluzione 20 di legittimità allora visto che mi dai 20 di legittimità io mi vado a sposare con tutti quanti mi vuoi mi vuoi sposare i miei sentimenti sono sinceri nei tuoi confronti mi vuoi sposare sono sentimenti di sinceri non ci si può sposare siamo già sposati ma perché non posso sposarmi con un cinese cioè mi hai vietato vabbè allora non mi sposo victory allora questo significa che adesso abbiamo national arrest meno 10 e dovunque avevamo una quantità di ribelli senza senso per gli ultimi 60 anni è stato così adesso la lista è comunque lunga ma guardate che è tutto zero quindi questa lista scomparirà voi non potete capire se mi fossi informato prima forse avremmo potuto gestire la cosa più facilmente però va bene così la rivolta è finita andate in pace ci vediamo sotto nei commenti 50 minuti lo potete utilizzare come guida contro la rivolta da cattolici ovviamente avete visto che la stabilità non è assolutamente un problema perché se siete controlli della curia e avete province da convertire e capacità di farlo avete stability infinita di fatto quindi siamo a posto da questo punto di vista e niente Joao ha battuto anche i rivoluzionari perché lui è vero che è una persona imbarazzante ma è talmente imbarazzante che la gente lo ama GG a tutti